Mi dispiace tantissimo perché per me, come per tutti i preti, come per tutta la gente, è sempre stato un padre buono, molto affettuoso, molto sensibile. Bastava guardarlo negli occhi, guardare il sorriso, ci si accorgeva che c'era una persona che voleva entrare in sintonia, che mostrava che gli interessavi. Era una persona interessante ai suoi occhi, non era qualcosa così di formale, ma molto sentito. Così, Monsignor Fausto Bonini ricorda il Patriarca Emerito Marco Cè, che si è spendo lunedì sera all'età di 89 anni nell'ospedale civile, dove era ricoverato dallo scorso 19 marzo in seguito a una frattura del femore. La sera della Domenica delle Palme aveva ricevuto dal Patriarca Moraglia il sacramento dell'unzione degli infermi, poi le sue condizioni sono peggiorate di giorno in giorno. Monsignor Monini ha condiviso molte esperienze insieme a lui, fu anche il suo portavoce. Portavoce di una persona che faceva fatica a trovare facilità nella comunicazione. Mi diceva, meno mi fai parlare, meglio sto, perché era un tipo molto riservato. E poi la sua riservatezza credo che forse facesse parte della sua natura. Era una persona riservata, aveva paura delle telecamere, dei microfoni, e quindi bisognava forzarlo un momentino, però poi era di una ricchezza straordinaria. Mercoledì mattina il feretro del Cardinale Cè sarà accolto al molo di San Marco e portato nella Basilica, dove la salma resterà esposta fino a venerdì pomeriggio. I funerali saranno celebrati sabato mattina alle ore 10.